ci siamo ragazzi siamo a sciacca per la crono scalata sciacca montecronio sta botta siamo con le formula abart motore 1.4 turbo quindi motore fiat di derivazione abart installato su queste formula tatus macchine leggerissime velocissime non tantissimi cavalli ma siccome le macchine sono molto molto leggere ci sarà da divertirsi ci sarà da divertirsi perché questa sera siamo in tantissimi ragazzi tutte macchine uguali quindi si è lavorato tanto sugli assetti i tempi sono tutti vicinissimi si punta a fare credo un 52 vediamo come va a finire intanto ci stiamo sistemando per la partenza e vediamo come va a finire allora ragazzi partito il pilota davanti a me quindi ci si va ad allineare ci si va ad allineare facciamo scaldare un attimo le gomme e ci siamo ragazzi ci siamo aspettiamo 30 secondi da adesso e si parte ok ragazzi le gomme sono in temperatura quindi andiamo e vediamo di non fare danni un attimo Grazie a tutti. 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 L'ho tirata ragazzi, l'ho tirata. Intanto ragazzi ne stanno rientrando parecchie ai box, quindi secondo me la stanno tirando in parecchi in questa gara 2 perché stiamo cercando tutti un attimino di spingere di più, visto che considerando i tempi che si sono fatti in gara 1 che sono già dei tempi abbastanza bassi. Quindi come potete vedere ne stanno rientrano in parecchi. Allora ragazzi il pilota davanti a noi è partito, noi ci andiamo ad allineare, facciamo riscaldare un attimo le gomme e vediamo di portare a casa un buon tempo in questa gara 3. Non siamo messi male in classifica, andiamo dai. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.